luoghi e volti della misericordia fissati in una preziosa stampa celebrativa e artistica del giubileo straordinario in corso è la misericordia e vultus l'ultima realizzazione della biblioteca apostolica vaticana che prende il nome dalla bolla d'indizione dell'anno santo voluto da papa francesco nell'opera con una tiratura limitata di 200 esemplari sono presenti le tradizionali sette basiliche della roma giubilare ma non solo ambrogio piazzoni vice prefetto della biblioteca apostolica vaticana sono come dire suggerite tutte queste le sette chiese e sono rappresentate tutte molto per bene qualche volta in diverse prospettive in una specie di composizione artistica che forse può essere pensato più come un capriccio architettonico cioè non è una pianta delle sette chiese ma è la ripresa delle sette chiese che vengono presentate proprio perché si sta parlando di un giubileo ma come vedete questo è soltanto la prima parte della della pianta la parte superiore nella parte inferiore qui sono state rappresentate non tutte naturalmente ma sono state rappresentate molte delle opere di misericordia sia quelle spirituali sia quelle corporali con una serie di simbologia naturalmente con molte altre con molti altri come dire suggerimenti che poi ciascuno può anche trovare la la mensa che sta al centro della scena e che contiene da bere da mangiare richiama naturalmente il date da mangiare agli affamati e dare da bere agli assetati la porta santa è aperta e accogliente a quella attraverso cui si passa e vedete anche altre altre immagini come questo che l'accoglienza dei forestieri oppure la visita ai carcerati con una distribuzione riservata non soltanto ai doni di papa francesco del cardinale segretario di stato pietro parolin durante le udienze ufficiali come già avvenuto nei colloqui in vaticano con il principe alberto di monaco il presidente iraniano ruani l'opera è destinata anche alla vendita due gli artisti che ne hanno permesso la realizzazione dopo le precedenti esperienze della pianta monumentale di roma per il giubileo del 2000 e della successiva nuova pianta della città del vaticano barbara iatta curatore della grafica della biblioteca apostolica vaticana sono gli stessi artisti che nel 2007 realizzarono la civitas vaticana che è la pianta appunto attuale dello stato della città del vaticano in qualche modo la pianta ufficiale che è stata tante volte utilizzata anche come dono ufficiale del santo padre nel corso dei suoi viaggi e sono pierluigi isola che è l'inventore il disegnatore di questa bellissima opera e patrizio di sciullo che è l'incisore appunto colui che l'ha incisa sulla matrice in rame quello della biblioteca apostolica vaticana vuole dunque essere un contributo concreto al senso del giubileo dedicato alla misericordia il prefetto monsignor cesare pasini quando ho guardato questa stampa una delle reazioni è stata da pace e armonia e vuole mandare questo messaggio a tutti coloro che ne fruiranno l'ho distribuita anche in formato ridotto in biblioteca e ho detto che bello se questo messaggio di misericordia che crea pace e armonia fosse alla base abituale dei nostri rapporti del nostro vivere l'ho detto per noi lo spero per gli altri